Qui in collegamento dall'Evan Bozzi Stadium abbiamo una delle protagoniste del match che tra un po' si giocherà tra le lampadine e la squadra delle punteracce donoresi. Abbiamo qua ospite, prima del riscaldamento, Valentina Conciu, una delle protagoniste assolute della squadra delle punteracce. Buonasera Valentina. Ciao. Allora Valentina, quale può essere la chiave per poter vincere questa partita che sa molto di verbi? Difesa. La difesa deve essere ben sistemata. Dopo un primo match, possiamo dire, sotto tono, abbiamo visto la vera Valentina Conciu, tanta sostanza in mezzo al campo, tanta qualità. Cosa vedremo oggi? Più in fogo. Dalla giocata della tua partita. Sì, ciao. Siamo qui dall'Evan Bozzi Stadium con Cinzia Carboni, una delle giocatrici delle lampadine che oggi giocheranno il derby contro le punteracce. Buonasera Cinzia. Buonasera a tutti. Allora, Cinzia, quale può essere la giocatrice che può dare qualcosa in più alla squadra in un match così importante? No, beh, io penso tutte. Uniformità è la nostra parola d'ordine. Tutti insieme cerchiamo, almeno oggi, di fare un gol. Secondo te, il pubblico, per chi tifferà? Per le punteracce o per le lampadine? Sarà divisa. Almeno il nostro paese è un paese che tifferà tutti. Dall'Evan Bozzi Stadium è tutto. Alla prossima.